Dall'Africa a Urbino la bella favola di Natale di Blessing A Pesaro è tutto pronto per il Lecater Capodanno Campo da calcio di Vismara, la regione respinse la richiesta di 500.000 euro Utopia riparte dalle Parco Miralfiore, si comincia l'8 gennaio La VL domani ospita a Varese per regalarsi un Natale col sorriso Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telezornale di oggi venerdì 22 dicembre che apriamo occupandoci di una bellissima storia Quella della piccola Blessing bambina di 33 mesi che grazie all'amore della famiglia Urbinate Cappelletti Valentini, alla collaborazione tra il prefetto Emanuela Saveria Greco Il sindaco di Monte Grimano Terme Lierossi ed il ministero dell'Esteri Tajani È potuta arrivare sul nostro territorio Un viaggio lungo e per nulla semplice come ci viene raccontato in questo primo servizio Una storia bellissima, una storia che è assolutamente in clima con il Natale Una famiglia splendida che ama profondamente questa bambina e che ha fatto veramente di tutto per averla con sé La bambina poi è stupenda, corre, chiacchiera, è venuto nel mio studio e ha preso tutte le penne Tra l'altro le più belle, quindi ha anche gusto la bimba Noi siamo felici, siamo felici perché quando si può fare qualcosa Anche io penso di aver fatto davvero pochissimo Però l'ho fatto con il cuore Quindi sapere che poi il risultato è positivo è una grande gioia La famiglia è felice Abbiamo fatto anche la sorpresa di Babbo Natale per la bimba La bambina dice già auguri a tutti e va a che dire di più, è una bellissima favola il lieto fine La famiglia nel momento in cui ci siamo incontrati mi ha spiegato quello che era un caso umano Che veramente toccava il cuore Mi ricordo benissimo che sono tornata a casa quel sabato mattina che ero distrutto Mi sono messo sul divano e non mi sono più mosso Perché era veramente sentire questa famiglia che raccontava di questa bambina Su un pavimento, per terra, che stava male Che non riuscivano a curarla perché non c'erano le cure idonee E che erano pronti per portarla in Italia Ma che per qualche cavillo non si riusciva a sbloccare una situazione Che di fatto legalmente doveva essere già stata sbloccata Ha fatto sì che scattasse veramente la volontà, la voglia, il bisogno, l'orgoglio anche Di mettere a disposizione tutto quello che si poteva fare per cercare di aiutarla Da lì a poco il ministro Tajani sarebbe stato proprio da noi a Ararimini Per il meeting, guarda caso, proprio sull'Africa Perché l'intervento del ministro Tajani era proprio sui popoli africani E ho detto guarda Valentina tu mercoledì devi essere giù Per farti parlare con Antonio ci penso io, con il ministro Tajani ci penso io Tu non ti preoccupare Il ministro in un minuto ha veramente capito quella che era la situazione La fortuna ha voluto che al meeting c'era il capo di gabinetto del ministro C'era il segretario generale del ministro degli esteri C'era il suo capo segreteria e una serie di ambasciatori E subito siamo riusciti a trovare la quadra per portare a casa il risultato Ringrazio ancora l'attività di questa trade union Che è stata l'attività di tutte le istituzioni Quest'anno sarà un Natale bellissimo in famiglia, la nostra famiglia allargata Ci tengo a ringraziare il prefetto, a ringraziare Tajani soprattutto E il suo staff e il sindaco Elia Rossi Che con una dinamicità incredibile è riuscito a metterci in contatto diretto con Tajani E con il ministro degli esteri Insieme abbiamo cercato un modo per portare la bambina in Italia E come vede ce l'abbiamo fatta È stata lunga perché comunque la burocrazia italiana è così Però alla fine ce l'abbiamo fatta Abbiamo portato a casa il risultato La bambina ha quasi tre anni Noi la conosciamo perché comunque è circa da un anno e mezzo Perché è da tanto tempo che facciamo questi viaggi in Africa La bambina ci chiama mamma, babbo, chiama i nonni Riconosce la casa, tutto Ed è un amore Anche ieri ha fatto il suo ultimo, no ultimo, uno dei suoi tanti, dei hospital Che farà insomma nel reparto di Pediatria Urbino E che ringrazio per la disponibilità E niente, è una bella favola E la Pesaro della musica e della cultura è in elutto per la prematura scomparsa A 58 anni del maestro Michele Antonelli Conosciuto come grande strumentista e come codona portante dell'orchestra filarmonica Giochino Rossini È stato per anni uno dei musicisti più autorevoli delle Rossini Opera Festival Nato nelle 1965 di Sant'Angelo in Elizzola Antonelli si era diplomato in e flauto dopo gli studi alle conservatorie di Pesaro e di Parma Nella serata di ieri hanno espressi le loro cordoglie all'intera orchestra Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Il vice sindaco Vimini Il presidente del consiglio comunale Marco Perugini E il sovrintendente del ROF Ernesto Palassio Anche il sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli Che conosceva il maestro Antonelli sin da quando era un ragazzino Ha espresso il suo cordoglio per la prematura scomparsa Ed è stata molto buona l'affluenza per il primo appuntamento Senza prenotazione Per la somministrazione dei vaccini Covid Organizzato dall'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino Tenutosi nella giornata di ieri Sono state circa 400 infatti Le persone che hanno approfittato dell'occasione Si sono presentate a partire dalle prime ore del mattino Alle dipartimenti di prevenzione in via Nitti a Pesaro I prossimi appuntamenti in programma sono quelli di Fano e Urbino Sabato 23 dicembre 2023 A Urbino nella sede del distretto in via Guido da Montefeltro Dalle 8.30 alle 13 E venerdì 29 dicembre a Fano Nelle punto vaccinale di popolazione Inail In via Palmiro Togliati 13 Dalle 8.30 alle 13 E dalle 14 alle 18.30 E a Pesaro è tutto pronto per celebrare la notte di Capodanno Il Comune ha infatti organizzato in poco tempo un cenone al coperto In vari luoghi della città Pensato per i visitatori e non solo Attesi a Pesaro per il Lecater Capodanno Ne ha parlato questa mattina in una conferenza stampa dedicata Il Vice Sindaco Daniele Vimini Sentiamo Cater Capodanno con Radio 2 Con il concerto di Con la Pesce di Martino Con la trasmissione in diretta Dalle 21.30 Con i Vazzanicchi e Lundini E il DJ set che seguirà E da questo punto di vista Abbiamo voluto creare anche le condizioni Con due punti ristoro Uno alla palestra del Carducci E uno al Bocciodrono Per chi A parte tutti quelli che aderiranno E' importante Ai cenoni e alle cene organizzate Ai ristoranti del centro Che stanno già andando molto bene In termini di prenotazioni Possano anche da Pesaro O soprattutto per chi viene fuori Con una cifra abbastanza popolare Di 35 euro Poter cenare Ed essere anche in tempo In piazza Per l'inizio della trasmissione Alle 21.30 E sicuramente poi Del concerto Alle 22.30 Quindi è un servizio in più Che abbiamo cercato Di mettere in piedi Grazie anche all'appoggio Della Onlus Gulliver E di tanti volontari Che renderanno possibile Questo piccolo miracolo logistico Di far finire Un cenone di Capodanno Alle 22.30 Invece che all'infinito E che invece servirà molto Per poter fare in modo Che il pubblico Possa fruire Di questa bellissima serata Che avrà anche un risvolto Legato ovviamente I temi internazionali I temi della pace In particolar modo Con due collegamenti Uno con Donciotti Della marcia di Pax Christi Che si tiene a Gorizia Che sarà anche Capitale europea Della cultura Tra due anni E anche con Gerusalemme Con la scuola Di musica Magnificat Fondata tra l'altro Dal nostro Dico nostro Perché cittadino Onorario di Pesaro Padre Armando Pierucci Che tiene insieme Bambini In particolar modo Che studiano musica Di religione ebraica Di religione cattolica Di religione cristiana Anche e comunque Musulmana Quindi un bel messaggio Un momento Tragico Di quelle zone Per fare sì che Il periodo del Natale Il Caporanno Sia anche Un messaggio Rispetto alla pace Il cenone Andrà prenotato Entro il 28 Per darsi la possibilità Anche a livello organizzativo Di corrispondere al meglio A tutte le domande E chi festeggerà Con un maggiore sorriso Queste festività Natalizie È un signore Che ieri Presso la tabaccheria Di via Vincenzo Rossi Davanti all'ex Campetto da basket Del lupo Ha vinto ben 100.000 euro Con un biglietto Delle 10 e l'8 Nella foto Il gestore Della tabaccheria Mirko Hercules Con la figlia Stefania Espongono Il biglietto vincente Dalla descrizione Di Hercules Il fortunato Vincitore Che ha preferito Rimanere anonimo Dovrebbe essere Un signore Di età compresa Tra i 50 e i 55 anni Residente Nelle quartiere Di Pantano E continua A tenere banco La questione Legata al campo Da calcio Di Vismara Dannezzatosi Durante l'alluvione Dello scorso maggio Su questo fronte Il consigliere Regionale Andrea Biancani Ha proposto Un emendamento In ragione Richiedendo 500.000 euro Per sistemare L'impianto sportivo Danneggiato Un emendamento Che però Almeno per il momento È stato respinto Un altro emendamento Che ho presentato Qui anche questo È stato bocciato Purtroppo Ma che ripresenterò Nell'aula In consiglio regionale Durante il bilancio Riguarda Il campo da calcio Del Vismara calcio Ricordo Che è una società Che aveva un campo Fatto appena due anni Che aveva fatto L'amministrazione comunale Un investimento Superiore Ai 600.000 euro Che con l'alluvione Di maggio 2023 È stato completamente distrutto Cioè non è più utilizzabile Per poter rimettere Come dire Renderlo utilizzabile Un'altra volta E va completamente rifatto E ci vogliono almeno Altri 6 o 700.000 euro Ed è per questo Che ho chiesto alla regione Di dare un contributo Io ho chiesto 500.000 euro Ma poi dovrà essere deciso A livello di consiglio regionale E mi auguro 500.000 euro Perché il comune di Pesaro Si ritroverebbe Dopo due anni A dover rispendere La stessa cifra Che aveva speso Appena due anni fa E secondo me Un aiuto A livello del consiglio regionale Sicuramente importante Anche perché ricordo Che questa società Ha oltre 200 ragazzi iscritti È importante Per comunque Un quartiere Che possiamo definire In parte periferico Dove i giovani Hanno bisogno Di fare sport Ha bisogno Di avere un punto Di riferimento Questa società Lo è per tanti giovani Per centinaia di giovani Ed è importante Che venga ripristinato Entro il prossimo inizio Del prossimo campionato Che sarà sicuramente A settembre-ottobre Del 2024 Attualmente La società È costretta A pagare affitti In altri campi Con disagi Sia da parte Delle famiglie E dei ragazzi E quindi Un aumento di spese Quindi io penso Che la regione Visto che ha previsto Decine di interventi Su impianti sportivi A livello regionale Aggiungere questo impianto È fondamentale Anche perché È un impianto Che c'era Era appena stato riqualificato Ma a causa Di questa alluvione Occorre rifarlo Dopo il grande successo Della scorsa estate Il Festival Utopia Riparte E lo fa Alla grande A partire dall'8 gennaio Infatti Porta aperta Per la nuova attività Che questa volta Si svolgerà Presso il parco Miralfiore di Pesaro Questa mattina C'è stato anche Il rituale Della consegna Delle chiavi Della struttura Da parte Del sindaco Di Pesaro Matteo Ricci Ai tanti ragazzi Che lavoreranno Proprio all'interno Di questo importante progetto Una cosa bellissima E il comune Ci ha concesso Per sei anni La gestione Di questo bellissimo Bar ristoro Infrastura sociale Al centro Del parco Miralfiore Chiuso da Alcuni mesi Tanti ragazzi Tutto il gruppo storico Del Festival Utopia Quindi parliamo Di 60 ragazzi Che saranno Impiegati Come o lavoro Come volontari All'interno Di questa struttura Che sarà aperta Dalla mattina Alla sera Con tanti ragazzi Dentro Speciali Che cercano Un riscatto In questo luogo Possiamo dire Che il sogno È diventato Nuovamente realtà Quando inizierà Questo sogno Dall'8 gennaio Tutti i giorni Senza Un giorno di pausa Perché siamo Veramente tanti Dalla mattina Alle 7 Fino alla sera 23 Faremo colazioni E brunch Pranzo Cena Concertini Con aperitivi Quindi tantissime cose Sociali Per far diventare A questo punto Il cuore culturale E sociale Della città Sottolineo Nessuno ci credeva E' stato un progetto Un progetto Che inaspettatamente E' esploso Noi ci credevamo Invece Ed oggi E' realtà Con la consigliere Delle chiavi Ringraziamo oggi Anche Marusca Palazzi Che li ha seguiti In tutto il percorso Ha fatto in modo Che questo progetto Andasse avanti Quindi in qualche modo Il comune ha voluto Il comune ha voluto Dare valore Al progetto Creando appunto Questo bando E dando la possibilità Di andare avanti Quindi il comune Darà in comodato D'uso gratuito Questa sede Che potrà essere Fluibile a tutti E poi abbiamo visto Anche i grandi progetti E le grandi iniziative Che hanno fatto All'interno di Utopia Questo è servito A fare in modo Che si creasse Una comunità Una comunità di persone Che hanno capito L'importanza del progetto E l'importanza Di mettere al lavoro Anche queste persone Che hanno difficoltà Nella vita Ma che comunque Nell'ambito lavorativo Sono delle persone Che possono fare benissimo Il lavoro Come tutti Quindi un grande risultato Oggi ne sono veramente contenta Perché Utopia Non è rimasta un'utopia Ma è diventato Concretamente Un progetto Che tutte le persone Potranno usufruire Qui all'interno Del Parco Miralfiore L'Istituto Alberghiero Quest'estate Ha dato Un buon Ottimo contributo Per l'allestimento Insomma Del Festival Utopia Con i propri locali Con gli alunni Dove si sono impegnati Tanti Con il personale docente Adesso Siamo qui Per l'inaugurazione Per il prosseguo Il Festival Utopia Diciamo Parte seconda Che era Che è quello Lo scopo principale Per cui è nato Questo Il Festival Utopia E quindi L'alberghiero Impiegherà I propri Alunni Con Per quanto riguarda Potrebbe essere L'alternanza Il PCTO L'alternanza Scuola-lavoro E quindi Sia gli alunni Con gli alunni speciali Che gli alunni Con normodotati Che affiancheranno La Gulliver Per In questo progetto Saremo pronti Da gennaio Saremo pronti E apriremo A tutto il pubblico Apriremo I ragazzi Sono In trepida In trepida Attesa E non vedono L'ora di iniziare Cominceremo Con le colazioni Alla mattina Dei piccoli Pranzi Veloci Al giorno E le cene Alla sera E sarà Luca Pieri Il nuovo Presidente nazionale Di Assofarm Associazione Che rappresenta Circa 1700 Farmacie comunali In tutta Italia Una nomina Importante Per l'attuale Presidente Di Aspes S.P.A. Come ce ne parla Lui stesso In questa intervista Luca Pieri Il nuovo Presidente nazionale Di Assofarm Nell'Assemblea Generale Tenutosi a Roma La scorsa settimana L'attuale Vice Presidente Prenderà La guida Della federazione Pieri Prenderà Il posto Di Venanzio Gizzi Che era rimasto In carica Per ben 25 anni Tra le strategie Di sviluppo Future Dell'associazione Pieri Si è soffermato Sulla necessità Di spingersi Verso un modello Di farmacia Comunale Più sostenibile E digitalizzata Con l'esigenza Di impostare Una più moderna Declinazione Del rapporto Fra aziende E dipendenti Alla luce Soprattutto Del ruolo Fondamentale Svolto Dalle personali All'interno Delle farmacie Pieri 58 anni E già Presidente Di Aspes S.p.a Gruppo Che gestisce 10 farmacie Comunali Tra Pesaro E Gabicemare Ed è partner Della società Di gestione Delle 4 farmacie Comunali Di Riccione E delle 2 Di Cattolica Passando Da Aspes E quindi Dalla gestione Delle farmacie Comunali Possiamo dire Che la capacità Con cui Pesaro Ha gestito Nel tempo Questo servizio Allargandola Anche i comuni Della Romagna Ha fatto sì Che la presenza All'interno Dell'associazione Assofarm Che rappresenta Oltre 1700 farmacie Comunali A livello istituzionale In tutta Italia Arrivasse a Pesaro Arrivasse al sottoscritto Dopo circa 8 anni Di vicepresidenza È un incarico Prestigioso Che porterà Il sottoscritto Ma Pesaro In generale A sedere Sui tavoli Nazionali Proprio Della formulazione Della riprogettazione Di quello che può essere Il servizio sanitario nazionale Ed è il ruolo Che la farmacia Può ricoprire In tutto questo È una soddisfazione Personale Molto grande Ma credo Che sia una soddisfazione Che devo condividere Con la società Che devo condividere Con Aspes E con i farmacisti In generale Che in qualche modo Hanno lavorato In questi anni Facendo sì Che la nostra società Avesse questo ruolo Così importante E anche quest'anno I Rotary Club Di Pesaro Saranno a fianco Della Caritas Diocesana E soprattutto A fianco Delle persone Più fragili Il Rotary Club Pesaro Con il suo presidente Umberto Bianco E il Rotary Club Pesaro Rossini Tramite il presidente Raffaele Iannopollo Hanno infatti deciso Di finanziare Il pranzo di Natale Che verrà servito Presso la mensa Diocesana Di Via delle Teatro 26 Alle persone Seguite da Caritas E Diocesana Regalando loro Un prezioso momento Di cura Staranno circa 60 Pasti e offerti Che verranno serviti Dai tanti volontari Che ogni giorno Affiancano le persone Nei loro percorsi Di ripartenza Grazie alla loro Disponibilità La Caritas Riuscirà a fornire Il suo servizio Costantemente Anche sotto Le feste natalizie Sapore di terra Percorsi gustativi E culturali E questo è il nome Dell'evento itinerante Che il 28, 29 e 30 dicembre Prenderà vita Tra i comuni di Cagli Cantiano E Piobbico Scopriamolo meglio Nelle prossime Il servizio Il progetto nasce Su un bando Della Regione Marche Per incentivare Quelli che sono I percorsi Agroalimentari Della Regione Marche E che cosa Vi dovete aspettare Sicuramente Un progetto Multidisciplinare Un progetto Che è intento A promuovere Innanzitutto Partiamo da quelle Che sono proprio La sostenibilità Perché parleremo Di produttori Locali E quando parliamo Di locali È da sottolineare Che il nostro territorio Ha abbracciato Un'ampissima zona Un'ampissima zona Parleremo anche Di quella Che è L'abbattimento Degli stereotipi Di genere In qualche modo Perché partiremo Proprio Da un film Di Anna Kauber E quindi Potrete vedere Quella che è La dedizione Alla produzione Pastorizia Incentrata Soprattutto Su una produzione Femminile Creata Da una Manodopera Femminile Poi parleremo Anche della possibilità Di estendere Il progetto Ad una fascia D'età Che va dai 3 Ai 90 anni Perché ci saranno Numerosi laboratori Per i bambini Sempre volti A sensibilizzare Innanzitutto Sullo spreco alimentare Poi anche A farli Innamorare Se vogliamo Di quelle che sono Le attività Tradizionali Dei luoghi Perché ci sarà Ad esempio Un interessantissimo Laboratorio Proprio specifico Per loro Che è Incentrato Su quella che è La produzione Della famosa Crescia di Pasqua Tipica delle nostre zone Tanto per citare Due di questi laboratori E poi abbiamo Anche attività Fatte per Chi ha voglia Di esprimersi In attività sportive Perché ci saranno Delle escursioni Che ci porteranno Però a un luogo Dove poi si Parlerà ancora Di prodotti Agroalimentari Slow Food Sul territorio Lavora E cerca di fare rete Con i produttori locali Con i ristoratori E con Il consumatore finale Cercando di Mettere a progetto Tutto quello che i piccoli Produttori fanno Sul territorio Devono poi Venderlo Al pubblico Che è interessato Quindi per noi È fondamentale Fare rete Con i ristoratori I piccoli produttori E i cittadini Che poi consumeranno Questi prodotti Del territorio Noi in particolare In questo progetto Curiamo la parte Del mercatino Che verrà fatto Il 30 Sabato 30 E il trekking È la giornata Del trekking Sempre del 30 Con un'escursione Che partirà Con un pulmino Da Cagli Arriveremo Fino a Piobbico E da lì Poi si andrà su Fino a Monte Nerone Quindi sarà Un trekking Anche abbastanza Impegnativo Ma penso Per gli appassionati Sarà Molto piacevole E poi Nel rifugio Corsini Si mangerà Polenta Con degustazione Di formaggi Questo è quanto Poi cureremo Anche magari L'aspetto Diciamo Così estetico Della manifestazione Daremo una mano Sicuramente All'amministrazione Comunale Come sempre E concludiamo Il nostro telegiornale Parlando di sport Visiglia di pregare In casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Domani sera infatti Con Palla 2 Prevista alle ore 20 e 30 Alla Vitri Frigo Arena Arriva la pallacanestro Varese Cozzo e Buscaglia Ha parlato così In preparazione del match Due giorni Prima di Natale Una partita in casa Col debutto di Cinciarini Che torna davanti I suoi tifosi Ci sono tutti gli ingredienti Per poter vivere Una bella serata E credo che voi Ci teniate tanto Ci teniamo molto E poi oltre a quello Che hai detto Per chiarità Però c'è la partita La partita Ci metterà davanti A un banco di prova Importante Sono partite Che stanno tra parentesi All'interno di una stagione Perché abbiamo Veniamo anche da un risultato Positivo Vorremmo dare continuità Oltre al risultato Anche Alla prestazione Nel senso di miglioramento Perché lo stiamo cercando di fare Quindi sì Gli ingredienti Però siamo molto concentrati Sui 40 minuti Perché ripeto Sono un po' Assestanti Varese innesta Un nuovo giocatore Un giocatore Che poi si adatta Perfettamente Alle caratteristiche Della squadra Nico Menion Ecco Come vi siete preparati Su di lui Che cosa ti aspetti Anche perché ha fatto Solo un paio di allenamenti Credo Sì Ma guarda Al di là degli allenamenti Visto anche La tipologia del giocatore Il talento di giocatore Le sue capacità Lo stile di gioco Si compenetra molto bene E quindi ci siamo preparati Continuando a prepararci Su noi stessi A quello che dobbiamo fare Aggiungendo ovviamente L'attenzione Che Menion necessita Però è una partita Che va vista Nel suo insieme Anche nella sua interpretazione Perché dobbiamo essere Molto concentrati Su certi giocatori Sui giocatori Sul tipo di gioco Che hanno Ed avere la forza Mentale Di Tenere Per quanto possibile Il pallino del gioco In mano Sarebbe bello Fare una doppietta Finora non vi è mai riuscito Di mettere in fila Due vittorie È importante Per una continuità Per il morale Per la fiducia Sì ma noi ce l'abbiamo Morale E attenzione Perché ci rendiamo conto Che stiamo lavorando Ma quello che dici tu È vero Perché poi ci sono Dei momenti Anche Diciamo Della stagione In cui sai Tu senti Che stai piano 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 Lavorando Per alzare il livello E progredire Anche il fatto di avere Le vittorie O la consecutività Di questo Ti aiuta Senz'altro Ci proveremo Perché ci teniamo Moltissimo E siamo giunti Alle termine Di questa edizione Di Rossini News Prima però di salutarvi Vediamo Quale sarà La programmazione Di Rossini TV Per questa sera Perché si parte Subito alle ore 20 e 10 Con replica Alle ore 22 Con sinfonia Di maestri Il racconto Della Rossini In questa occasione Questa seconda puntata Dove si parlerà Del concerto Del primo di gennaio Saranno ospite Irene Piazzai Prima arpa Dell'orchestra Sinfonica Rossini E Henry Domenico Durante Primo violino Di spalla A seguire Questa sera Alle ore 21 e 20 Vedremo lo speciale TV che abbiamo Realizzato Questa domenica Dedicato Al concerto Natalizio Dei bambini Della scuola primaria Giovanni Paolo II Che si è tenuto Nella piazza di Montecchio Alle 21 e 40 Un altro speciale Televisivo Menga Fashion Art Vedremo la sfilata Di moda Realizzata dagli studenti Di fashion design Delle liceo Artistico Mengaroni E come di consueto Vi ricordo L'appuntamento Domani mattina Con la nostra Rassegna Stampa Saremo in diretta Alle ore 7 e 20 In diretta anche Sulla nostra Pasina Facebook Domani mattina Ci sarà il nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto Con questa edizione Rossini News Io vi ricordo Che l'informazione Di Rossini TV Proseguirà domani mattina Con la Rassegna Stampa Per poi prendersi Una piccolissima pausa In queste festività Natalizie Ci rivedremo Il 27 Con la Rassegna Stampa Puntuali alle 7 e 20 E anche Rossini News Tornerà il 27 Mercoledì Dicembre Alle ore 19 e 30 Ne approfitto Per fare tantissimi Auguri di Natale Ai nostri telespettatori Ora vi lascio le previsione Delle meteo E vi auguro Un buon proseguimento Di serata